Tragico incendio a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta. Due anziani fratelli sono morti e il figlio di uno dei due è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli. L'incendio è divampato alle 4 di questa mattina a dare l'allarme ai vicini di casa che si erano accorti del fumo che fuoriusciva dall'appartamento del quarto piano dello stabile di via Luigi Mercatini. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che, con un poche difficoltà, hanno spento le fiamme. Due le vittime, fratello e sorella, Mario Schiano, 93 anni, e la sorella Anna, di 72. La donna è stata trovata in cucina dove si era spostata in un probabile tentativo di fuga. I fratelli Schiano vivevano con Dario, 46 anni, il figlio di lui, che secondo le testimonianze di alcuni inquilini avrebbe cercato, senza riuscirci, di trascinare il padre Mario fuori dall'appartamento in fiamme. L'uomo, rimasto ustionato e ricoverato al centro, grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli. La donna, invalida e costretta su una sedia a rotelle, è stata trovata avvolta completamente dalle fiamme. Stanno bene, invece, gli altri residenti del palazzo, uno stabile di sei piani, in particolare quelli dell'ultimo piano, che sono stati prelevati dalle loro abitazioni con l'aiuto di due autoscale. Sulla vicenda sono ancora in corso le indagini condotte dalla polizia. Secondo i primissimi sopralluoghi, le fiamme potrebbero essere partite da una stufa elettrica malfunzionante. La giornata è abbastanza triste. La maggior parte delle persone si conoscono da tanti anni, quindi comunque è come se fosse una famiglia. Comunque non si sa quello che è successo. Purtroppo sono cose che capitano, non si sa neanche la dinamica, cosa sia successo, il vociare delle cose. Non ci sono parole, non ci sono parole perché veramente dispiace.